Il Forum Acqua aveva lanciato l'allarme sui contenuti della nuova legge edilizia regionale che a nostro avviso contiene norme assai pericolose addirittura per i cittadini in quanto consente di realizzare i manufatti anche in aree a rischio alluvione o a rischio frana. Peraltro contiene numerosi interventi a favore delle costruzioni, varianti urbanistiche, piani di lottizzazione e così via quando invece noi dovremmo ragionare sul consumo di suolo zero e riordinare le nostre città e il nostro territorio in maniera sostenibile. Abbiamo anche sollevato questioni di costituzionalità che poi autorevolmente il governo ha riconosciuto impugnando le leggi. Ora sarà la Corte Costituzionale a decidere, ma noi aspichiamo che la regione ci ripenzi e cancelli queste norme da sola.